no ma c'è un cazzo dove cazzo sei finita quella cosa quella un cazzo sei finita ti ho chiamato centinaia volte non mi hai mai risposto non ti vede neanche a scuola dove cazzo sei finita scuola famiglia lo sai che sono mesi che mi hanno già bucciata non ti vuoi proprio far bucciare già successo faccio un mando perché non rispondi neanche a tex io non ti vado più opposto un po di cose la testa cazzo di cose hai per la testa c'è ma scusa ma cosa c'entra quella cosa lì tutto uguale veramente meno una casa sta andando fermati guarda che ci sei fatta l'ermax stronza e bravute no sei sempre stata una stronza però ma scusa ma non capisco ma sono io sono amici sono amici di me conosci tutto e io conosco tutto di te che cazzo stai nascondendo mi era una storia ma dimmelo che cazzo sta succedendo vabbè sì tu dimmela presente tizio che abbiamo vestito ben presente niente è venuto fuori che era che era un tizio di un clan che si era pentito uno che ha fatto infamato e che ne ha mandati in galera un sacco e che si stava rifugiando in uno scantinato e usciva giusto per acqua e cibo e cose e vabbè una cosa tira l'altra insomma questa cosa ha permesso a me mio padre di entrare in questo clan non so scusa mi dice che è una cosa buona sono d'accordo alla fine c'è un po di cose non ti sto rispondendo ma scusa ma no ma scusa ma perché non me l'hai detto prima sta roba non sapevo che ti interessava infatti non sapevo un cazzo ma me lo dovevi dire basta no no ma scusa ma allora ma questo cazzo di can di cosa cazzo si occupano loro ma mi immaginano sì ma ok ok ma come si fa a entrare cioè e c'ero anch'io no ho l'ammazzato io vuol dire mi adesso non è mica una festa guarda lei è con me no 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 si spiega si spiega che c'ero anch'io e si e si spiega non è mica difficile adesso sicuramente no ci prendono siamo appena entrati arrivo con te dico c'era anche lei sì sì le dici perché ci sono stata io no 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 ho guidato io sono stata io che ammazzato il tipo quindi a me mi fanno entrare anche lì quello che mi aspetta io voglio capito perché se loro sanno che sono stata io me la faranno entrare fidati basta che lo spieghiamo sì sì ma fidati basta che lo spieghiamo vabbò è ammazzato tu è un applauso è comunque non è no ma scusa non ho capito io oh non ho capito ma sei ma sei seria adesso mi ma sei seria ma guardami guarda che ero io che l'ho ammazzato ma stai scherzando oh mi fai venire se fosse stato per te dai dai lo sappiamo tutti ce lo ricordiamo tu con i tuoi pianti con i tuoi esterismi volevi l'ambulanza le cose ma sai bene che ho pianto perché cazzo eravamo lì ma ti ricordi ma anche tu hai pianto ma cosa guarda che è una roba cioè è normale che uno piange in quella situazione lì certo eh sì ma scusa ma io so quello che stai facendo tu mi vuoi far entrare basta ma che cazzo è ti sei te la stai tirando non è che ti sto scludendo no no te la stai tirando te la stai tirando guardati adesso fai parte di un clan ma guardati sei proprio una stronza ora che anch'io c'entro eh denuncia mi va bene denuncia vai alla polizia e dici così io ho ammazzato questo ma lei si prende il merito che strada sei prego tutto tuo vaffanculo 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 oh sai